Un tempio all'avanguardia in cui coniugare il benessere fisico e psicologico. Questo e tanto altro è bellessere, il nuovo salone di bellezza in via Giovanni Falcone a Trani, che offre professionalità grazie alla competenza di uno staff giovane e dinamico. Dopo anni di esperienze i titolari Mauro e Davide hanno deciso di proseguire il loro cammino professionale ed è imprenditori del settore del benessere. Il mio lavoro nasce nel 1991, incomincio a fare il barbiere in un salone di parrucchieri a Biceglie, dove poi incomincio a intraprendere questa tipologia di lavoro, a imparare tramite un maestro parrucchiere che è Cesare Lacavalla e di lì poi mi sono spostato a Londra. In quel periodo ho potuto conoscere varie tipologie di persone, tendenze, approcci a questo lavoro e qui poi sono arrivato a Trani nel 2002, dove ho lavorato per vent'anni, dove mi sono formato, dove ho fatto anche corsi, dove ho intrapreso anche il discorso dell'estetica. Curerò il discorso parrucchiere uomo e curerò la parte femminile, quindi sarò un supervisore di entrambi i lati del parrucchiere. Ho iniziato cinque anni fa a intraprendere il discorso della bellezza e dell'aspetto estetico. Sono un fanatico del dettaglio, motivo per il quale molto spesso mi soffermo sulle singole peculiarità del lavoro che faccio. Il principale obiettivo del Salone di Bellezza consiste nell'offrire i migliori trattamenti per il benessere del corpo e della mente. Tutti i servizi disponibili infatti sono eseguiti con tecniche manuali e con l'utilizzo di prodotti professionali dei migliori brand del settore. Io mi occuperò di taglio, barba, servizi del colore, servizi di taglio anche nella parte femminile e tutto ciò che concerne appunto il discorso parrucchiere sia nell'uomo che nella donna. Invece io mi occuperò ovviamente di seguire la clientela per quanto riguarda taglio, barba, sopracciglia, massaggio, ceretta, trattamenti estetici, quello che andremo anche a fare cioè la depilazione definitiva, il laser dove affiancherò Rossana. Tutto quello che riguarda il benessere e la bellezza di tutti i clienti. Abbiamo Rosa che si occuperà della zona parrucchiere da donna e invece nella zona estetica abbiamo Rossana che si occuperà comunque della parte bellessere della donna. Il nuovo centro estetico si appresta a diventare un punto di riferimento per quanti desiderino curare il proprio aspetto a 360 gradi. Abbiamo voluto creare questo luogo appunto per dare la possibilità all'uomo e la donna di potersi prendere cura di se stessi sdoganando il preconcetto che uomo e donna non possono coesistere in uno stesso ambiente legato al benessere e alla bellezza. Il bellessere si prefigge di essere uno dei saloni all'avanguardia, di essere uno dei saloni dove la prima cosa è il benessere del cliente, dove la prima cosa è il rilassamento del cliente, l'accoglienza, il sorriso. Il nostro sorriso sarà donato a tutti quelli che vorranno venire a trovarci.